Direi che comunicare la salute è fondamentale in un momento in cui l'informazione spesso è fake news o viceversa dove spesso la medicina è comunicata attraverso le ricerche di Google. Riuscire a comunicare una malattia in senso professionale ma nello stesso tempo in una sorta di storytelling è fondamentale sia per chi la comunica che per chi ascolta. Perché raccontarsi, comunicare, spiegare al grande pubblico che cosa significa vivere una malattia è metà della cura. Grazie